Allora, ciao a tutti bambine e bambine, oggi sono con un amico davvero speciale che mi ha invitato a casa sua, lui è Kev ed è appena arrivato da l'Oio Center. Allora, benvenuto Kev, sei contento di aver preso casa Bergamo? Che ti piace? Ma caldo? Mi fa facilità riconizionata Kev però. Ascolta Kev, come tu sai, qui si parla del Damasco. Io so che tu sei in tutto il mondo, ma prenderei l'impegno a imparare il Bergamo? Sì, davvero? Grandissimo. Ti farei anche la taraccia? Allora, sei diplomatico, questa è politicamente corretta la risposta. E poi tecnici, un'ultima domanda, io so che tu disegni e colori con le salsi. Allora, ti chiedo questa cosa, qual è il consiglio di attività creativa che suggerisce ai bambini per quest'estate? Un consiglio di attività creativa. Un consiglio di attività creativa. Mi sembra giusto, non sprecare l'acqua perché l'acqua è veramente una risorsa e un bene per lì. Quindi ci vediamo qui ad Orio Center, Kev ti aspetta. Grazie Kev, essere a casa tua è veramente un piacere.